un saluto a tutti i nostri amici e a tutte le nostre amiche oggi vogliamo darvi una velocissima spolverata della quotidianità di agenzia venus beh dovete sapere cari follower e cari follower che la maggioranza di coloro che fanno parte dello stato di agenzia venus è composta da persone sportive quindi anche la mia morning routine inizia con un po di pilates e un po di attività fisica mi sveglio molto presto il mattino subito dopo vengo qui in ufficio e mentre sorseggio un buon cappuccino esclusivamente di soia e una centrifuga preferibilmente drenante leggo i vostri messaggi ma vi faccio fare un piccolo tour di agenzia venus allora cari follower vicino a me c'è l'ufficio di cristian di mio fratello cristian penso che ormai voi sappiate che agenzia venus è l'unico marchio a gestione familiare in italia ebbene tutti i giorni crisi ed io ci prendiamo del tempo per confrontarci in modo da migliorare ciò che facciamo il nostro lavoro molto particolare che trassa quei sentimenti e quindi è necessario che ci sia una buona comunicazione in primis tra noi dello staff di agenzia venus vicino all'ufficio di cristian c'è l'ufficio della nostra elena come la chiamo io la nostra elenina che con il suo sorriso la sua pazienza la sua dote grande dote di ascolto risponde quotidianamente ai vostri messaggi alle vostre mail alle vostre domande ai vostri dubbi ma il cuore pulsante di agenzia venus è composto dallo staff selezioni dai ragazzi dalle ragazze che si occupano del matching e che sono in questa parte dell'ufficio di agenzia venus perché purtroppo abbiamo constatato negli anni che non sempre l'amore basta perché un rapporto sia duraturo non sempre il sentimento basta è necessario che ci sia un collante quindi è necessario che ci siano delle compatibilità reciproche concludiamo il nostro tour con l'ufficio comunicazione venite con me dove ci sono dei ragazzi che quotidianamente si occupano della comunicazione di agenzia venus quindi far conoscere il nostro ambiente far conoscere agenzia venus in maniera semplice ma soprattutto in maniera trasparente eccoli qua salutate oggi vi ho parlato dalla sede agenzia venus di parola però vi ricordo che agenzia venus avvenne 11 uffici sparsi nel nord italia quindi se viva di venirci a trovare contattatemi al 392 960 2430